L'arte della vetrata artistica, il viaggio spirituale di Vincenzo Greco. Nel mondo dell'arte, poche forme riescono a catturare la luce e l'anima come le vetrate artistiche. Tra i migliori mosaicisti e artisti nel settore delle vetrate artistiche Tiffany, emerge una figura di spicco, Vincenzo Greco. Con la sua maestria nella piombatura e la tecnica della grisaglia, Vincenzo Greco non solo crea opere d'arte, ma trasforma il vetro in un'esperienza spirituale e visiva che parla al cuore di chi osserva. La magia della grisaglia. La grisaglia è un metodo antico che risale a secoli fa, un'arte che richiede pazienza e dedizione. Con questa tecnica, ogni pezzo di vetro viene trattato con colori che sembrano danzare alla luce, creando un effetto che trasmette un profondo senso di sacralità. Le vetrate artistiche, specialmente quelle destinate a chiese e cappelle, diventano così un linguaggio visivo che racconta storie di fede, speranza e redenzione. Immagina di entrare in una chiesa antica, dove le vetrate raccontano la vita dei santi e le scene bibliche. Ogni colore, ogni sfumatura, è come un versetto di un canto sacro, che si unisce all'eco delle preghiere dei canti. Vincenzo Greco, attraverso il suo tocco artistico, riesce a infondere vita in ogni pannello, trasformando il vetro in un portale verso il divino. L'eccellenza dell'artigianato italiano. Essere considerato il numero uno in Italia nel settore delle vetrate artistiche è un traguardo che Vincenzo Greco porta con orgoglio. La sua passione per l'arte si riflette in ogni creazione, in ogni progetto che intraprende.